ciao a tutti siamo arrivati anche oggi al parco sicurità e ho già incontrato i primi cosplayer giorgia emilie federico neggi yuka grande neggi è già il primo di naruto che ho beccato sono finalmente riuscito ad entrare c'era una fila pazzesca guardate quanta gente c'è già alle 11 di mattina qua alle mie spalle c'è il treno panoramico che passa circa ogni 40 minuti fa tutto il giro del parco adesso vado nella zona parco e circa 300 metri dall'ingresso quindi vicinissimo sta beccando un sacco di cosplayer per fare un video non vedo di far vedere la carrellata siamo quasi arrivati al palco scenico c'è un caldo pazzesco ci saranno 30 gradi ecco il palco tutto valerio diletta io qua pre gustavo questo momento già da ieri già da ieri basta questa battuta c'è una che si chiama giada nello staff non è colpa mia giada la piccola chichi e già ciao mi faccio disegni stupidi so di ortica adesso vado nella zona del labirinto non so se ci siete mai stati ma è bellissimo ha la sepia alta più di tre metri dopo ve lo farò vedere comunque col periodo del covini mi ero mancate tantissimo le fiere sono felicissimo che almeno di sicurità di averlo fatto insieme a rimini speriamo nel luca comics finalmente un po d'ombra comunque il parco è enorme potete anche noleggiare la golf car io l'ho fatto una volta e mi sono divertito tantissimo ciao esplica futuristica svelazzo a me il gusto a me il gusto allì 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 vai vai allì non segnerai mai allì ciao adesso vi porto al raduno di istri ho visto tantissime principesse tutte fatte da dio Sono quasi le due, sono arrivato alla zona Stani, qua è pieno di foto 7 ed è un bellissimo posto sia per scattare foto che per fare video. Ho appena incontrato il mio clone e l'ho registrato mentre mi faceva una foto. Prima ho vinto ma non è stata registrata e quindi con la sfiga adesso perdo. Le carte non le guardo perché so già che perdo questo giro. Però adesso non inizio io, prima dai. Gira così se non l'ultima io dai. Allora ci sembra che la francia si è messa bene perché qualcosa... Tocca a lei! Chi tocca? Ah tocca a me aspetta! Allora tu stavi parlando delle carte? Guarda il bel regalino che io faccio a qualcuno che viene! Nooo! Prima ho vinto! Ricordatevi che prima ho vinto! Aspetta che il rallenti delle P4 è la faccia di quella che ha preso le P4. Prima ho vinto! Cambio colore! Oh grazie! Allora io direi che è così! Ho finito! Vinto! 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 Tutto è sicurità! Siamo quasi arrivati al labirinto, guardate che bello! Non usciamo più! Dobbiamo andare! Sono entrato nel labirinto, vediamo quanti tentativi dovrò fare per arrivare fino alla cupola. Dopo dieci minuti di girare il vuoto finalmente sono riuscito ad arrivare alla fine del labirinto! Ciao Dino! Ciao Dino! Io ti becco sempre mentre sto facendo il vlog! Bella raga! Ciao a tutti ragazzi! Io sono Emanuele da Akira Standard Film, siamo un gruppo di stuntmen e il nostro obiettivo è insegnare a fare le coreografie sia a chi ama il mondo del cosplay sia a chi ama il mondo del cinema. Fermo ma come avete visto da Salto Mortale sono veramente bravi! Per cui vi lascio anche in descrizione il loro link così dopo potete seguirli! Finalmente sono riuscito ad arrivare alla vetta! Avete visto che bel panorama? Adesso ritorno in zona palco perché fra un po' c'è il concerto di Giorgio Vanni non so se riuscirò ad esserci fino alla fine perché dove ho parcheggiato chiude le 8 e secondo me il concerto va oltre! Per cui mi sa che verso le 7 devo scappare! Spero che questo vlog vi stia piacendo! Vi ricordo che caricherò tre video, uno il video vlog che è questo e altri due video che saranno le carrelate cosplayer con tutti gli action video che ho registrato durante la fiera! Adesso vado al bar a prendere un po' d'acqua perché sto schiattando ci saranno 30 gradi! Vi stavi dicendo prima che hai fatto 5 cosplay, quali sono? Allora questo qua di Zenitsu, Monica di Doki Doki Literature Club, solo la parte... E tra l'altro presi su Wish giusto? Sì sì, o su Aliexpress! E infatti Aliexpress il problema adesso che c'è la dogana dal primo di luglio non so se lo sapevi che devi pagare tipo l'IVA quando devi... Ah sì ho visto! E infatti è stata una fregatura assurda! Tra l'altro fra tipo due ore c'è il concerto ma io non riesco a vederlo non so se voi rimanete! Sì io sì! Ah bello siete! Quindi lei è fortunata che puoi rimanere a vedere i concerti invece fra un'ora me la devo svinare! Iscrivetevi al canale di Luca Tacche! Vi faccio vedere già adesso quanta gente ci sarà per il concerto! Mi chiamo a lei! Questa specialità della chiusura della sfilata adulti! Ok grazie ciao! Ciao! Sì adesso ce lo vogliamo! Grazie mille! Ciao! Mi piace un sacco quando la gente passa e vede che sta registrando e saluta! Cioè sono dei grandi! Sei un grande comunque! C'è tanta stima! Ciao! I'm gonna be very, very! Sì, questa è la scuola che è la scuola di fanciata! Tak a le scuola di fanciata! I'm gonna be very, very! Sì, questa è la scuola che ha fatto un po' di tanto! Sì, la scuola che ha fatto un po' di tanto! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, oh! da lucatake e da paccone tutto vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video che per la precisione uscirà domani ciao